Bella a tutti ragazzi, sono J.I.S. in un nuovo video Oggi sono in un nuovo video di anteprima In questo video di anteprima Vi mostrerò, come potete vedere dalle immagini, ecco Dragon Ball Xenoverse Questo è un gioco, è l'ultimo gioco di Dragon Ball Che sta per uscire Che hanno cambiato la data di uscita Dovrebbe uscire il 20... Non voglio dire, non cavorate Febbraio in questi giorni C'è io 20, se non mi ricordo bene Ehm... Ed è, secondo me, un gioco di Dragon Ball molto ma molto bello Come potete vedere la grafica è bella molto I personaggi sono fatti... Potete vedere i personaggi sono fatti molto bene Ehm... Non c'è molto da dire su questo gioco E' molto bello Con tutti i personaggi dell'ultimo movie di Dragon Ball Che... Non posso farvi vedere come mi spagano il filo Che durerebbe troppo Però... Ho deciso di prepararvi... Per l'occasione Visto che... Mi sarebbe stato... Ehm... Brutto il volo sulle immagini Anche un video Scusa... L'ho messo così per... Ok... Cominciamo... Ehm... 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 Ma dai che prima funzionavi Quando ho preparato tutto per il video Era... Ehm... 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!